Quando arrivarono in boulevard Saint Germain erano le sei e mezzo e nel cortile del ministero non c'era anima viva. Non appena Maigret e Lapoint superarono il cancello diretti alle scale che portavano all'appartamento del ministro furono richiamati da una voce alle loro spalle. Ehi voi dove andate? Il guardiano non li aveva visti passare. Si diresse zoppicando verso di loro che si erano fermati in mezzo al cortile. Diede un'occhiata al distintivo che Maigret gli tese poi lo guardò in viso. Mi scusi non l'avevo riconosciuta. Ha fatto bene non si preoccupi dato che qui le dispiacerebbe dirmi. Maigret ormai era abituato a tirar fuori la fotografia dal portafoglio. Ha già visto questa faccia? L'uomo che non voleva prendere un'altra cantonata la esaminò attentamente dopo aver inforcato un paio di occhiali spessi con la montatura d'acciaio. Non disse né sì né no. Dava l'impressione che prima di compromettersi volesse saperne di più ma non osassi chiedere. Adesso è un po' più anziano vero? Sì la fotografia di qualche anno fa. Ha un automobile nera due posti un modello vecchio? È possibile. Allora probabilmente è la persona che ho richiamato perché aveva messo la macchina nel cortile in uno dei posti riservati alle auto del ministero. Quando? Il giorno preciso non me lo ricordo all'inizio della settimana. Non le ha detto il suo nome? Ha alzato le spalle ed è andato a parcheggiare dall'altra parte del cortile. È salito dalla scalinata centrale? Sì. Mentre siamo di sopra cerchi di ricordarsi che giorno era. Nell'anticamera al primo piano l'usciere era ancora in servizio e stava leggendo i giornali. Maigret mostrò anche a lui la fotografia ma l'impiegato scosse la testa. Quando è che sarebbe venuto? All'inizio della settimana. Non ero al lavoro. Ho preso quattro giorni di congedo per la morte di mia moglie. Devi chiedere a Giuseppe. Lo troverà la settimana prossima. La annuncio al ministro? Un istante dopo Auguste Poin aprì di persona la porta dell'ufficio. Sembrava stanco ma calmo. Fece entrare Maigret e la Poin senza fare domande. Con lui c'erano sia la segretaria, la signorina Blanche, sia il capo di gabinetto. Al ministero probabilmente la radio non veniva ancora fornita in dotazione perché su un tavolino c'era una radio portatile che forse apparteneva a Poin e che i tre stavano ascoltando quando erano stati interrotti dall'usciere. La seduta è stata breve e dedicata solo all'ordinaria amministrazione, ma i corridoi sono stati animati da grande fermento per tutto il pomeriggio. Le chiacchiere che circolano sono tante. Si dice che lunedì ci sarà un'interpellanza sensazionale, ma non sappiamo ancora... Spenga, disse Poin alla segretaria. Fleury si diresse verso una delle porte ma Maigret lo trattenne. Resti, signor Fleury, non è di troppo, è anche lei, signorina. Poin lo fissava preoccupato perché non era facile capire che cosa fosse venuto a fare. D'altra parte il commissario aveva l'aspetto di chi segue il filo dei propri pensieri ed è talmente concentrato da dimenticare tutto il resto. Sembrava che stesse ricostruendo mentalmente la pianta dell'ufficio. Guardava le pareti e le porte. Se permette, signor ministro, vorrei porre qualche domanda ai suoi collaboratori. Il primo a cui si rivolse fu il capo di gabinetto. Suppongo che durante la visita di Pichemal lei fosse nel suo ufficio. Non sapevo che... Va bene ma adesso lo sa. Dov'era quell'ora? Fleury gli indicò una porta a due battenti che era socchiusa. È lì il suo ufficio? Sì. Il commissario andò a dare un'occhiata. Era solo? Non sono in grado di risponderle e non rimango mai a lungo da solo. I visitatori si susseguono per tutta la giornata. Il ministro ne riceve alcuni, i più importanti. Io mi occupo degli altri. Maigret aprì una porta che collegava all'ufficio del capo di gabinetto con l'anticamera. Passano da qui? Di solito sì, tranne quelli che prima sono stati ricevuti dal ministro e che lui accompagna da me per qualche motivo. Squillò il telefono. Poin e la signorina Blanche si guardarono. La segretaria sollevò la cornetta. No, il ministro non c'è. Poi rimase in ascolto con lo sguardo fisso. Anche lei sembrava spossata. Sempre la stessa storia? Chiese Poin quando riagganciò. La donna annuì con un semplice battito di palpebre. Dice che suo figlio è stato... Non aggiunga altro. Si rivolse a Maigret. Si può dire che da mezzogiorno il telefono non ha mai smesso di suonare. Ho risposto io stesso a qualche chiamata e quasi ogni volta mi sono sentito ripetere... Se ti ostini a insabbiare la faccenda di Clairefont ti faremo la pelle. Ci sono delle varianti. Alcuni sono più gentili, altri si presentano con nome e cognome e questi sono i genitori dei bambini rimasti uccisi nella tragica disgrazia. Una se non ha distrutto il rapporto lo tiri fuori. La Francia intera deve sapere. Aveva gli occhi cerchiati. Il colorito grigio di chi non riesce più a dormire. Poco fa, qualche minuto dopo che la radio aveva trasmesso la mia dichiarazione, ha telefonato il presidente del mio comitato elettorale alla Roche, un vecchio amico di famiglia che mi ha visto crescere. Non mi ha mosso accuse, ma ho intuito che aveva dei dubbi. Qui non ci stiamo capendo più niente, figliolo. Mi ha detto con voce triste. Conosciamo tuo padre e pensiamo di conoscere pure te. Anche a costo di comprometterli tutti bisogna che tu dica quello che sai. Glielo dirà presto, replicò McGree. Poin sollevò di scatto la testa come se non fosse sicuro di aver sentito bene e chiese incredulo «Lo pensa davvero? Adesso ne sono certo». Fleury era appoggiato a un mobile dall'altra parte dell'ufficio. McGree porse la fotografia di Benoit al ministro che la guardò senza capire. «Chi è?» «Non lo conosce. La sua faccia non mi dice niente. Non è venuto a trovarla negli ultimi tempi. Se è successo il suo nome sarà sul registro in anticamera. Vuole mostrarmi il suo ufficio, signorina Blanche». Fleury da lontano non poteva aver visto la fotografia e McGree notò che si rosicchiava le unghie come se si fosse portato dietro quell'abitudine dall'infanzia. L'ufficio della segreteria, proprio accanto a quello del capo di gabinetto, aveva una porta a un solo battente. «È venuta qui quando il ministro ha ricevuto pique mal e le ha detto di lasciarli soli?» La signorina Blanche, tesa, fece un cenno di assenso. Ha richiuso la porta alle sue spalle. Ripete il cenno di prima. «Da qua è possibile ascoltare le conversazioni della stanza a fianco. Se incollassi l'orecchio alla porta e se dall'altra parte parlassero a voce piuttosto alta, è probabile». «L'ha fatto?» «No». «Non le capita mai?» La segretaria preferì non rispondere. Forse origliava quando Poin riceveva una donna che lei considerava carina o pericolosa. «Conosce quest'uomo?» Era il momento che la signorina Blanche stava aspettando, perché aveva avuto modo di dare un'occhiata alla foto mentre la guardava il ministro. «Sì». «Dove l'ha visto?» «Nell'ufficio attiguo», rispose lei sottovoce per non farsi sentire dagli altri indicando la parete che separava la sua stanza da quella di Flery. «Quando?» «Il giorno della visita di Pichemal». «Dopo?» «No, prima». «Era seduto o in piedi?» «Seduto, con il cappello in testa e il sigaro in bocca. Non mi è piaciuto il modo in cui mi ha guardata». «L'ha più rivisto?» «Sì, dopo». «Intende dire che era ancora lì quando Pichemal se n'è andato? Cioè che è rimasto nell'ufficio di di Flery finché la visita non è finita?» «Suppongo di sì. C'era prima e dopo. Non crederà che...» Probabilmente voleva parlargli di Flery, ma il commissario si limitò a dirle «Shh, venga». Quando tornò nell'ufficio grande, Poin lo guardò contrariato come se gli rimproverasse di aver messo sotto torchio la sua segretaria. «Ha bisogno del suo capo di gabinetto stasera, signor ministro». «No, perché?» «Perché mi piacerebbe fare una chiacchierata con lui». «Qui?» «No, sarebbe meglio nel mio ufficio. Le dispiace seguirci, signor Flery?» «Ho un appuntamento per cena, ma se è necessario». «Telefoni per disdire». Flery obbedì. Lasciando aperto la porta del suo ufficio, chiamò il Fouquet. «Bob, sono Flery. Jalpine è già arrivata?» «Non ancora? Sei sicuro?» «Quando arriva, dille di cominciare senza di me». «Sì, non credo che farò in tempo per la cena. Dopo sì. A più tardi». La Poin lo controllava con la coda dell'occhio. Poin, sconcertato, osservava Maigret con il palese desiderio di chiedergli spiegazioni. Il commissario sembrava non accorgersene. «Ha qualche impegno stasera, signor ministro?» «Avrei dovuto partecipare a una cena, ma ho disdetto io prima che mi venisse annullato l'invito. Può darsi che le telefoni per darle notizie, presumibilmente piuttosto tardi, anche se fosse in piena notte». Flery era ricomparso con cappotto e cappello in mano e l'aria di chi si regge in piedi solo per forza d'abitudine. «È pronto? La Poin, andiamo!» Scesero tutti e tre in silenzio dalla scalinata centrale e si diressero verso l'auto parcheggiata lungo il marciapiede. «Salga! La Poin, Alquet!» Durante il tragetto non scambiarono neanche una parola. Un paio di volte Flery sembrò Lillì per chiedere qualcosa, ma poi non ne fece nulla e continuò a rosicchiarsi le unghie. Sulle scale polverose Maigret gli ordinò di andare avanti. Poi lo fece entrare per primo nel suo ufficio e andò a chiudere la finestra. «Può togliersi il cappotto! Si accomodi!» Rivolse un cenno a La Poin, che lo seguì in corridoio. «Resta con lui finché non torno. Ne avrai per un pezzo, forse sino a notte inoltrata.» La Poin arrossì. «Hai un appuntamento?» «Non importa. Puoi telefonarle?» «Sì. Se vuole raggiungerti qui.» La Poin scosse la testa. «Fatti portare panini e caffè dalla brasserie, ma non perdere di vista Flery. Impediscigli di telefonare a chi che sia, e qualunque domanda ti ponga, digli che non sai niente. Voglio che cuociano il suo brodo. D'accordo?» Era la procedura classica. La Poin, anche se aveva partecipato a buona parte dell'inchiesta, non capiva dove volesse andare a parare il capo. «Va a tenergli compagnia e non dimenticare i panini!» Entrò nell'ufficio degli ispettori e trovò Jean-Vie, che non era ancora andato via. «Hai impegni particolari stasera?» «No, mia moglie. Ti aspetta? Faresti meglio ad avvertirla.» Si sedette su una scrivania, alzò la cornetta ad un altro telefono e chiese il numero di Catrou. «Pronto? Sono Megre. Scusa se ti disturbo di nuovo. Mi sono appena ricordato di una cosa per via di certi ami che ho trovato in un posto. Una delle volte che mi è capitato di incontrare Benoit era un sabato alla Gare de Lyon e lui stava andando a pescare.» «Davvero? È un pescatore accanito.» «Ah, e per caso sai dove va di solito?» Megre adesso era sicuro di sé. Sentiva di aver imboccato la pista giusta e pareva che niente potesse più fermarlo. «Come? Ha una casa da qualche parte?» «C'è modo di scoprire dove?» «Sì, subito. Aspetto che mi richiami.» Jeanvier era ancora al telefono con la moglie. Chiedeva notizie di tutti i figli che andavano all'apparecchio per salutarlo uno alla volta. «Buonanotte, Pierrot. Dormi bene. Sì, ci sarò quando ti sveglierai.» «Sei tu, Monique?» «Tuo fratello è stato buono?» Megre sospirò, ma attese pazientemente che Jeanvier avesse finito. Poi mormorò «Forse avremo una notte difficile. Credo proprio che farei bene a telefonare anch'io a mia moglie. Vuole che chieda io la comunicazione?» «No, no, non adesso. Aspetto una chiamata importante.» Catrou stava telefonando a un collega, anche lui pescatore, al quale era capitato di andare al fiume insieme a Benoit. Adesso era una questione di fortuna. Il collega poteva non essere in casa o poteva trovarsi fuori Parigi per lavoro. Rimasero in silenzio per una decina di minuti. Poi Megre finì per borbottare. «Che sete!» In quello stesso momento squillò il telefono. «Catrou?» «Sì, conosci Saint-Paul.» «Poco oltre Corbel, vicino a una chiusa, vero?» A Megre tornò alla memoria una vecchia inchiesta. «Esattamente, un paesino sulle rive della Senna, frequentato soprattutto dagli appassionati di pesca con la lenza. Benoit ha una casetta appena fuori dal centro abitato. Un tempo era utilizzata dal guardiacaccia, ora è diroccata e una decina d'anni fa ha potuto comprarla per quattro soldi.» «La troverò.» «Buona fortuna.» Non trascurò di chiamare sua moglie, ma lui non aveva bambini che venissero a salutarlo all'apparecchio. «Andiamo?» Passando si affacciò alla porta del suo ufficio. La Poin aveva acceso la lampada da tavolo con il paralume verde ed era seduto nella poltrona di Megre. Leggeva il giornale mentre flerì su una sedia con le gambe accavallate e la faccia dura. Aveva gli occhi semigiusi. «A dopo, ragazzo mio!» Il capo di gabinetto trasalì. Si alzò come per chiedere qualcosa, ma il commissario aveva già richiuso la porta. «Prendiamo la macchina?» «Sì, andiamo a Sempor, a una trentina di chilometri.» «Ci sono già stato una volta con lei.» «È vero. Hai fame?» «Se dobbiamo restare fuori a lungo.» «Fermiamoci alla Brasserie Dauphin.» Il cameriere si stupì vedendoli entrare. «Servono ancora i panini e la birra che l'ispettore La Poin ha ordinato per il suo ufficio?» «Sì, ma prima dacci qualcosa da bere. Che prendi, Jean-Vier?» «Non saprei.» «Un pernò?» Jean-Vier capì che Megre aveva voglia di un pernò e lo ordinò anche lui. «Preparaci un paio di bei panini ciascuno.» «Come li volete.» «Non ha importanza. Al patese ne hai.» Megre sembrava l'uomo più calmo della terra. «Noi siamo troppo abituati alla criminalità comune», mormorò a se stesso col bicchiere in mano. Non aveva bisogno di una risposta. Se l'era già data mentalmente. «In un crimine comune, di solito, c'è un solo colpevole o un gruppo di colpevoli che agiscono d'intesa. In politica è diverso. Prova ne è che alla Camera ci sono tanti partiti.» L'idea sembrava divertirlo. C'è un mucchio di gente interessata al rapporto Calam per i motivi più disparati. Oltre ai politici che si ritroverebbero nelle peste se il documento venisse pubblicato, e oltre ad Artur Nicò ci sono quelli per cui il rapporto costituirebbe un capitale e quelli per cui significerebbe il potere. Non c'erano molti avventori quella sera. I lampioni erano accesi, e l'atmosfera era pesante come prima di un temporale. Mangiarono i panini al solito tavolo di Megre, e questo gli ricordò il tavolo di Masculin al filet de sol. L'uno e l'altro avevano un tavolo fisso in posti diversi, in ambienti, ancora più diversi. «Caffè?» «Sì, grazie.» «Un bicchierino di acquavite?» «No, devo guidare.» Neanche Megre ne prese, e poco dopo uscirono da Parigi dalla Porte d'Italie in direzione di Fontainebleau. È buffo pensare che se Benoit avesse fumato la pipa invece di questi sigari puzzolenti, il nostro compito sarebbe stato infinitamente più difficile. attraversarono la periferia. Poi, ai lati della strada, videro solo alberi alti e macchine coi fari accesi che procedevano nei due sensi. Molte superarono la loro piccola auto nera. «Immagino abbastanza i tipi come Benoit da riuscire a mettersi nei loro panni.» Benoit non aveva molta immaginazione. Era solo un imbroglione di mezza tacca, e di sicuro con i suoi mediocri intrallazzi non aveva fatto fortuna. Aveva bisogno di donne di qualsiasi genere, di una vita sbracata in posti dove potesse parlare a voce alta e farsi passare per un duro, e alla fine della settimana di uno o due giorni di pesca con la lenza. «Se non ricordo male, nella piazza di Saint-Port c'è un piccolo caffè. Fermati là, così chiediamo informazioni.» A Corbey attraversarono la Senna e seguirono una strada che da un lato costeggiava il fiume e dall'altro un bosco. Quattro o cinque volte Jean-Bier sterzò bruscamente per evitare una lepre, borbottando «E vai, scema!» Di tanto in tanto spuntava una luce nell'oscurità. Alla fine ne apparve un intero gruppo, qualche lampione, e l'ispettore parcheggiò dinanzi a un caffè dove alcuni uomini giocavano a carte. «Entro anch'io?» «Sì, se hai voglia di bere un goccetto. Adesso no.» Maigret, invece, mandò giù un bicchierino. «Conosce un certo Benoît?» «Il poliziotto?» A Saint-Port Benoît non doveva aver ritenuto necessario, dopo tanti anni, spiegare che non faceva più parte della sua etè. «Sa dove è casa sua?» «È arrivato da Corbey?» «Sì.» «Allora ci è passato davanti. Non ha visto una cava a un chilometro e mezzo da qui?» «No.» «Di notte non si nota molto. Benoît abita proprio di fronte, dall'altra parte della strada. Se è in casa, vedrà la luce accesa.» «Grazie.» «C'è.» Intervenne uno dei giocatori di Belote. «Come lo sai? Perché ieri gli ho portato un cosciotto di agnello. Un cosciotto intero solo per lui. Si tratta bene, a quanto pare.» Qualche minuto dopo, Jean-Vier, guidando quasi a passo d'uomo, indicò una macchia più chiara nel bosco. «Deve essere la cava.» Maigret guardò sull'altro lato della strada, e a un centinaio di metri da lì, in riva al fiume, scorse una finestra illuminata. «Lascia la macchina qua. Andiamo.» Benché non ci fosse la luna. Individuarono un sentiero invaso dalle erbacce. "... una tipa del chippresino adolescente, la scuola del corno del corno della strada». Grazie per la visione!